Un commando tedesco apre la strada all'avventura sanguinosa della Repubblica Sociale Italiana. Dopo il 25 luglio del 1943, Mussolini viene arrestato per ordine di Badoglio e del Re. Naturalmente per garantire le condizioni di sicurezza viene portato prima nell'isola di Ponza, poi segretamente alla Maddalena e infine in uno spazio quasi inaccessibile sul Gran Sasso a Campo Imperatore. Immediatamente Hitler provvede ad un piano per la sua liberazione. Un commando formato da paracadutisti e da SS con una squadriglia di allianti e un piccolo aereo a motore riesce ad atterrare nello spazio molto molto piccolo di Campo Imperatore. Non incontrano resistenza, si suppone addirittura che la polizia italiana sia complice di questa operazione. In ogni caso Mussolini viene portato via. Viene portato a pratica di mare, da lì con un aereo di grande potenza viene portato prima a Vienna e poi a Monaco e liberato. Liberato rimane nelle mani sostanzialmente di Hitler e non a caso dieci giorni dopo si inaugurerà la Repubblica Sociale Italiana. Mussolini diventerà la propagine italiana di Hitler e quei 15 mesi che seguiranno a questa sua liberazione saranno una delle ferite più profonde della storia italiana. Una ferita a tutt'oggi non del tutto rimarginata.